Ciao, come state? Bentornati sul mio canale. Allora, non so oggi come mi sentite perché sto praticamente registrando con il nuovo microfono e mi devo un po' abituare, devo capire bene ancora le impostazioni. Fare un video show Intel, un po' di cose beauty, perché secondo me il beauty e l'smr sono due cose che vanno molto molto d'accordo insieme, almeno io mi rilasso tantissimo quando vedo video di ragazze che fanno vedere cose, prodottini, fanno dei tapping e quant'altro. Allora, mi dovete scusare se mi vedete un po' giù di tono, però ho tanta allergia in questo periodo, non so per quale strana ragione, però starnutisco in continuazione, quindi chi è allergico come me mi potrà capire. Ho notato che avevo tanti tanti prodotti da finire e da smaltire e ho pensato, se faccio un video in modo che faccio vedere magari il mio progetto smaltimento, cioè le cose capelli e le cose skin care che voglio finire. Magari io vi faccio ogni tot periodo questo video così io riesco a smaltire le cose, cioè un incentivo in più per me, per poter finire tutto quello che ho. Perché non mi fa di tenere le cose nel bagno o nei cassetti ammassate e usarle piano piano, ma mi voglio dare una bella mossa perché voglio finire le cose che ho per poi poterne comprare di nuove. Però fin quando io non finisco quelle che ho, ovviamente non ne vado a comprare altre e è una cosa che faccio anche con i detersivi. Infatti io non compro mai detersivi nuovi, non ne accumulo mai tanti se non finisco prima quelli che ho. Per quanto riguarda hair care e skin care sono arrivata ad un punto che ho veramente tante tante cose e quindi ho detto l'unico modo per poterle portare a termine e fare dei video progetto smaltimento o prodotti finiti che sia rilassante però anche motivante. Secondo me, voi che ne dite, vi piace l'idea? Fatemi sapere. Allora, intanto io mi sto un po' appiccicando con il microfono perché ovviamente devo capire bene le impostazioni. Allora per quanto riguarda i capelli ho veramente tantissimi prodotti che vorrei portare a termine e ragazzi questo video magari è un video motivante anche per chi come me vuole intraprendere questo percorso quindi magari fare spazio un pochettino nei cassetti di casa e voglio fare anche un video progetto smaltimento o comunque shopping nel cassetto si, voglio fare shopping nel cassetto del make up e quindi vi faccio vedere magari a rotazione i prodotti che voglio usare e vediamo un po' se ci riesco, che ne dite? Iniziamo subito Allora vi faccio vedere prima le cose hair care quanto riguarda l'hair care vi mostro questo Allora adesso da qua uscirà tanta polvere e stanno tirò come un non so cosa Allora Allora questo è un balsamo della Schulz è un balsamo ravvivante e diciamo che in realtà sono qui però voglio assolutamente finirlo io questo qua lo compro spesso anzi lo compravo spesso perché adesso avendo questo e non usandolo non lo sto ricomprando più però voglio assolutamente finirlo è molto buono come prodotto mi piace tantissimo però devo finirlo quindi questo fa parte del mio progetto smaltimento prodotti si possa sentire bene anche tutto ok ragazzi forse sento una sorta di frucio spero che non vi dia tanto fastidio quindi questo poi un altro prodottino che voglio finire assolutamente che non mi piace non mi piace proprio è questo prodotto qua ho provato tantissimi prodotti per capelli sia maschere sia balsami shampoo ho provato veramente tanti tanti prodotti è un balsamo illuminante per capelli stressati spinti e cuoio capelli e cuoio capelletto delicato e cuoio capelletto delicato e cuoio capelletto delicato e quindi questo è praticamente nuovo è quasi nuovo perché l'ho usato due o tre volte però non può stare lì ragazzi quindi voglio usare anche questo qua io in genere uso questo qui della Pantene perché mi ci trovo molto bene questa è la terza confezione che che compro e quindi siccome io mi trovo molto bene con questo ogni volta che finisce lo ricompro e non uso gli altri prodotti invece no devo usare gli altri anche perché questo ormai è quasi finito mentre come shampoo io in genere utilizzo questo qua della Elvib questo nella versione rossa questo è buono perché mi fa i capelli molto puliti e voluminosi però in genere utilizzo quei prodotti là però adesso voglio usare altro proprio per finirli quindi questo qua deve essere assolutamente finito poi 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 altro prodotto che voglio assolutamente terminare è questo qua adesso vi faccio vedere è questo prodotto qui dell'equilibra aspettate un attimo che per i capelli secchi e spenti allora a voi sembrerà utilizzato ma in realtà l'ho utilizzato 4-5 volte perché la restante parte l'ho versata qui per portarlo in viaggio e però ragazzi non mi piace assolutamente sono arrivata ad una conclusione e cioè che i prodotti equilibra per capelli non fanno per me e mi uncono praticamente i capelli e io avendo i capelli un po' grassi all'acute e secchi sulle lunghezze questi prodotti non vanno affatto bene per me anche se provo a diluirlo no e quindi ragazzi questo sarebbe lo shampoo però è travasato e quindi devo assolutamente finire anche questo shampoo qua tra l'altro ha un profumo che a me non piace molto io a me le cose molto profumate non piacciono nei prodotti cioè tanto profumo in un prodotto a me non piace mi nausea anche se qua dice che è 96% di origine naturale tutto quello che volete voi però non non mi piace molto poi è molto denso no non mi piace poi 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 altro prodotto equilibra che proprio non mi piace è questo qua questo è uno shampoo anti-caduta fortificante per capelli forti e rigenerati ragazzi questo shampoo io l'ho usato due volte e basta e non so devo essere sincero non so se veramente riuscirò a portarlo a termine perché non mi piace proprio mi secca il cuoio capelluto cioè proprio mi va a irritare il cuoio capelluto e senza parapenisi con i coloranti e tutto quanto però non mi piace non mi piace assolutamente balsamo istantaneo senza risciacquo splendora al cocco questo è molto usato infatti sono arrivata qua e io questo lo utilizzo dopo aver lavato i capelli prima di asciugarli sui capelli umidi e non ha bisogno di risciacqua e questo mi piace molto ma in genere a me le cose della splendora piacciono tantissimo però mi sono un po' stufata di usarlo e quindi voglio terminarlo profumo bellissimo essential air mist è una mist per capelli e mi lascia i capelli molto morbidi e lucenti ed è vero cioè io mi ci trovo molto bene con questo è un buonissimo profumo però l'ho usato poche volte vedete secondo me l'ho usato una decina di volte non finisce mai proprio però voglio assolutamente finire anche questo questo io l'ho trovato su yesstyle che voglio usare è questo sempre preso da yesstyle questo è una sorta di collagene è un concentrato di proteine e collagene per capelli e questo si mette sui capelli prima di asciugarli dovrebbe andare proprio a idratare il capello a renderlo più forte più resistente e quelli dovrebbe anche allungare l'ho usato solo 2-3 volte e poi non l'ho usato più però anche questo voglio assolutamente portarlo a termine allora questa è una maschera al cocco nutriente rigenerante della biolis natural e questi sono prodotti a 98% bio con ingredienti naturali vegani non testati sugli animali però ragazzi non mi piace non mi piace proprio questa è una maschera per capelli io l'ho usata varie volte però ha un effetto che non mi piace perché non sento proprio il capello morbido nutrito no non mi piace proprio sembra acqua fresca e molto fastidioso perché è un cocco proprio un odore di cocco forte e come vi accennavo prima a me le cose che profumano tanto tanto non mi piacciono non mi nauseano e infatti adesso vi faccio vedere però è un peccato devo usarlo sono troppo di cocco ragazzi ma un cocco strano non si vede tanto non penso sia ecco i dite io sono arrivata qua e a volte mi vado a fare tipo degli impacchi nei capelli e li lascio in posa tipo che ne so 10-20 minuti con questa maschera in testa e poi vado a risciacquare però voglio assolutamente terminarla perché non ce la faccio più a vederla voglio assolutamente terminare delle creme mani che non so perché io compro creme mani perché io ragazzi lo so la crema mani si dovrebbe mettere soprattutto in inverno però ragazzi a me non piace la crema mani perché mi si appiccica mi da fastidio ho proprio l'esigenza che mi devo andare a lavare le mani un'altra volta e non metto mai crema crema mani cioè proprio raramente solo quando ho le mani screpolate al massimo altrimenti non la metto e quindi a volte siccome voglio finirle le uso per le gambe quando le gambe sono un po' secche quando la pelle delle gambe oppure i piedi le braccia cioè la uso diciamo per gambe prevalentemente quando sono secche quando la pelle si fa secca e quindi la uso così quindi secondo voi posso usarla così ma penso di sì perché io così le sto usando per portarle a termine allora la prima che voglio portare a termine però è quasi finita è questa qui di Caloderma Allargan questa è una crema mani piccolina 75 ml però è quasi finita fortunatamente è arrivata qua qui quindi questa qua altre 10 altre 10 15 applicazioni e poi è finita anche a volte la metto in estate quando i piedi si fanno screpolati e quindi questa la finirò così ha un odore molto buono l'unica cosa un po' troppo forte a mio avviso però si può fare è molto invernale come profumazione ok quindi direi che la finirò così poi altra cremina è questa qui di i brochet al pomerush red apple cioè la mela russa ed è di una collezione natalizia si è questa qua è bellina questa è una crema a mani diciamo da borsetta perché è tipo 30 ml ok altra crema a mani è enorme è questa qui allora questa è una crema a mani della botanica in genere queste creme si trovano all'MD io avevo tutto un set di creme di questa marca però le ho finite perché mi piacevano molto erano per il viso anche questa delle mani è molto valida c'è questa questa marca qui botanica che trovate all'MD è molto valida però ce n'è ancora tantissima all'interno altra crema questa è una crema mani un'altra crema mani queste sono cose che io ricevo a natale prevalentemente cioè la gente fa queste cose per il corpo per la cura della persona allora questa è una crema all'arancia candida il cannella ed è buonissima c'è un odore che io amo poi sì questa è più leggera come crema infatti quelle volte che l'ho usata era molto leggera sì questa forse mi piace di più come come è fatta è proprio per questo periodo secondo me autunnale però ha un buon profumo proprio bello che poi a me in genere le creme quando le metto sul corpo mi piacciono di più di profumi persistono di più secondo me quindi ecco qua poi quindi ho 100 creme da finire mani poi altra cosa che voglio assolutamente portare a termine sono dei siriviso voglio portare a termine questi siriviso qua è abbinata alla sua crema vedete questo è un siro e questa è la crema e promettono proprio magie però vabbè lo usate poche volte quindi non vi so dire però la cosa che non mi fa venire voglia di usarle è l'odore di arancia scaduta chimica solo per questo però vedremo complex ah sì alla pava di lumaca molto valido anche questo l'ho usato diverse volte perché sono arrivata qua e quindi voglio finirlo qua anche questo è stato un regalo di Natale tutti i regali di Natale e poi stavo vedendo cos'altro voglio finire poi voglio finire questa crema dell'erbolario illumina idrata per pelli normali e miste ha un odore bellissimo sa di pulito ha proprio una profumazione stupenda in realtà eccola qua in realtà è anche molto molto valida come crema però io non so per quale ragione uso sempre le stesse quindi anche questa puoi assolutamente utilizzarla e questa crema ha proprio effetto luminoso cioè quando l'andate a mettere sul viso siete tipo luminose non lo so è molto bella è dell'erboristica di Atena a me le cose dell'erboristica piacciono molto sempre dell'erboristica voglio finire questa è un trattamento intensivo all'olio di argan e acido ialluronico e questo è un antirube idratante l'odore che ha ragazzi è paradisiaco cioè le cose dell'erboristica hanno un odore inebriante secondo me c'è madonna mia che profumo ha un profumo bellissimo e questa l'ho usata tantissimo vedete in inverno perché è molto corposa come crema quindi in inverno bisogna usarla e quindi anche questa qua l'andrò ad utilizzare soprattutto adesso con il fritto di Olatz questa è molto valida come crema è una crema anche primer cioè è una crema d'aggiorno però funge anche da primer viso prima del trucco e ha un odore di nonna cioè proprio mi ricorda la crema delle nonne tipo satirosa satirosa anche anche questa è molto usata vedete perché io questa qui la usavo in inverno però non è tanto corposa quindi anche adesso potrei utilizzarla queste però le utilizzo già devo dire solo che le devo terminare prese da YesStyle sono ottime ottime queste creme sono leggerissime sono proprio quelle creme per chi non ama quel senso di pesante allora questa è la è una crema calmante e questa invece la questa qui io ho anche il siroiso e ho anche il tonico è buonissima sono ottime queste creme e quindi ragazzi questo è spero che il video vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo alla prossima e poi ovviamente quando le terminerò vi farò vedere tutti i prodotti finiti del periodo e spero che il mio progetto smaltimento andrà a fine e niente noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao